Nella vita non ci sono soluzioni. Ci sono forze in cammino. Abbiamo riaperto speranze e serrande. Noi non abbiamo mai smesso di essere sempre qui per voi. Abbiamo gambe e braccia forti per rialzarci e continuare ad andare avanti. Abbiamo il cuore per sostenere lo sforzo e polmoni sani per respirare. Non abbiamo mai smesso di credere che sotto le mascherine c'è sempre stato un sorriso, il nostro sorriso. Non abbiamo mai smesso di lottare e lo abbiamo fatto dietro le quinte, chiedendo il massimo ai nostri dipendenti, cambiando così le nostre abitudini ma senza mai perdere la professionalità che ci contraddistingue. E se la vita ti dà 100 motivi per piangere, tu dimostra di averne 101 per sorridere. Ricorda che l'aquilone si alza sempre con il vento contrario.